Il rapporto Transatlantic Trends del 2012 mette in luce come la principale sfida alla comunità atlantica sia interna, vale a dire la debolezza non solo delle economie occidentali ma anche delle società e delle istituzioni di governo dell'Occidente che si trovano sotto molteplici pressioni per via di un distacco sempre più forte tra l'opinione pubblica e i governanti nei rispettivi paesi. Dal punto di vista invece della politica estera si nota una sostanziale tenuta nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa con opinioni molto favorevoli di un paese di una realtà verso l'altra. Vi sono ancora alti tassi di approvazione dell'operato del Presidente Obama mentre il suo rivale alle elezioni presidenziali Romney risulta essere poco conosciuto e è in alcuni casi anche poco amato.